Con il sindaco di Fossacesia Enrico Di Giuseppe Antonio siamo venuti a raccogliere una buona notizia per l'Abruzzo. Ce ne sono arrivate tante oggi di bandiere blu, l'importante è non solo quelle che arrivano quest'anno ma quelle che si confermano anche. Per Fossacesia non è certo la prima volta che riceve la bandiera blu che il sindaco sventola, diciamo orgogliosamente, ma naturalmente ogni conferma è importante, tanto più in questo anno particolare in cui bisogna anche rimuovere il territorio dal punto di vista turistico e attirare turisti. Il mare è trasparente e si vede. Sindaco, questa è sicuramente una buona notizia. Come la prende? Tanto per me è un buon compleanno perché siamo al ventesimo anno di bandiera blu, quindi Fossacesia si tinge sempre più di blu. La bandiera blu è segno di trasparenza, che significa l'assegnazione da parte della FE, di acque eccellenti, di raccolta differenziata elevata, di sicurezza della spiaggia, di ambiente sano e insomma tutto quello che non solo l'amministrazione ma gli operatori, i turisti, i cittadini della mia città fanno per garantirci questo premio. Che significa coniugarlo con la promozione turistica? Negli ultimi anni Fossacesia, come si dice, ha preso il volo, direi in un cielo sempre più blu, insomma che domina il mare. Ha preso il volo turisticamente, per me il turismo è un pilastro importante dell'economia che crea ricchezza e soprattutto occupazione per i giovani. Noi poi siamo in una zona dove nella parte interna del sangro c'è la parte industriale che insomma da occupazione. Il turismo è il secondo pilastro assieme all'agricoltura e ai servizi della nostra economia. E qui si inserisce anche il discorso relativo alla via verde perché quale miglior risorsa per portare turisti e un turismo tra l'altro sensibile all'ambiente, quello che va in bicicletta ovviamente, in questo territorio? Una via verde che è completata a singhiozzo ma adesso c'è stato un momento di svolta che potrebbe significare davvero l'avvio in tempo per quest'estate. Mi consenta una premessa. Sono tra i fondatori della via verde, a 25 anni assessore al turismo della provincia, pretesi nel piano territoriale l'uso pubblico di queste aree. Dopo molti anni sono tornato in provincia a fare il presidente e ho avviato l'acquisto e il finanziamento. Spero che a giugno, la data stabilita nell'incontro che la provincia ha avuto con le imprese che lavorano per la realizzazione di questa pista ciclabile, vada a buon fine. Ci saranno ancora dei problemi che spero vengano superati nel più breve tempo possibile. Perché dico questo? Perché tra l'altro l'anno scorso abbiamo avuto un grande successo in Abruzzo lo sport legato alla bicicletta ma le piste ciclopedonali hanno funzionato ponendo l'Abruzzo tra le prime regioni italiane dove chi pratica o chi ha il piacere di percorrere una pista ciclopedonale ha scelto la nostra regione. Perché? Perché c'è la via verde che tra l'altro oggi è un cantiere, non si presenta bene, io torno a ribadirlo. Credo che sia giunto anche il momento che provincia, comuni e regione si diano da fare tutti assieme perché a giugno diventi una perla anche sotto l'aspetto paesaggistico e del decoro urbano. Tra l'altro voi avete anche, mi diceva prima, organizzato una riunione proprio con i sindaci di tutto il percorso interessato addirittura da Martinsicuro in poi. Sì, intanto devo dar atto a Lanci Abruzzo che finalmente dopo decenni e decenni la costa abruzzese diventa una costa dove c'è coesione da parte di tutti, da Martinsicuro a San Salvo. Abbiamo chiesto, e in questi giorni avremo un incontro con la regione, una cabina di regia assieme alle capitanerie di Porto, alla regione, alla provincia e ai comuni per il demanio, quindi cooperare anche noi nella soluzione dei problemi che ci sono, ma soprattutto per quanto riguarda una gestione oculata e attenta al rispetto dell'ambiente. Allora, con questi due colori lasciamo il sindaco Enrico Di Giuseppe Antonio, il blu della bandiera blu e il verde della via verde, insomma, due colori importanti per l'Abruzzo.